Successivo al punto 6, il punto 7 è l'istituzione delle commissioni comunali consultive. Il gruppo di maggioranza avrebbe intenzione di proporre queste commissioni comunali. Assistenza ai servizi sociali, diritto allo studio, statuto e regolamenti, governo del territorio, ambiente e territorio. Sostanzialmente abbiamo cercato di togliere quelle che a noi sembravano superflue e cercare di accorpare per tematiche i servizi che possono dare le commissioni stesse e renderle addirittura già operative perché comunque le emergenze sono tante da provisionare, pertanto voteremo anche qua l'immigliata esecutività. Assistenza ai servizi sociali, diritto allo studio, statuto e regolamenti, governo del territorio, ambiente e territorio. Ecco, posso dire una cosa? L'ultimo commissione che non era più quella precedente, che esistevano già, ha un fine che è un po' la quale diceva come consigliere maggiore, che è quello di aiutare l'amministrazione, almeno nelle idee, a monitorare il territorio. Quindi vorremmo, ma anche quando mai ragionerete su chi inserire, di avere un gruppo di persone che ci possa aiutare, appunto perché il territorio è grande, non tutti lo conosciamo bene, non lo ricorda che lo conosciamo, di darci una mano a fare questo, a svolgere questo compito. Quindi ecco, per capire più o meno che cosa va, bisogna fare sicuramente il territorio, era quello. Monitorare il territorio, quindi riguarda la pubblicità e l'intervento. Noi vogliamo per la istituzione del territorio, se la norma è per il territorio. No, la faremo di... No, la facciamo di... Cogliendo le indicazioni che vi ammette, però... Un anno superiore, siccome le risultate di 7, 20... Comprese il signor... No, scusate il signor... Scusate il signor... Scusate il signor... E sei indicato dagli gruppi. Voglio chiedere se... Dei 6 membri che 9, 21... Due possono essere informabili, ma non più, ma... Se uno trova il suo... Uno trova il suo... Quattro e no, non più, ma non più, ma giornate... E' più, e' più... Non ho fatto scendere... Non c'è una domanda... E' molto strada di mavelo, che allegro... Se i membri di condizione dovesse... Possono essere anche no... Sì, sì... Perché... Sì, anche se altrimenti saremmo sempre qua, e già, siamo cotta no. Un passo avanti, perché voi avete trattato in un solo membro. Allora, la proporzione c'è, la proporzione. Non è che avete fatto un passo avanti. Non è un passo avanti. Sì, però, voglio ricordare che qui è quella che arriva da un concetto di cui diremmo, che sia diventato in novembre, è rimasta quella che stavolta è cambiato. Ma non è che in tutte le difficoltà del miglioranza, io non ho. Perché aveva fatto una cosa. Inoltre, se non vi sono ulteriori precisazioni favorevoli. immediata l'esempio di vita favoriboli grazie